Come per tutti all'inizio significava solo dimagrire, poi in realtà cominciando a fare sport sempre più seriamente è diventata una cosa semi-agonistica e quindi ogni domenica è una battaglia. La corsa di pielle per me è stata la prima gara ufficiale e quindi ci tengo molto e poi il percorso è talmente piatto che tutti danno il meglio per poter effettuare il loro best.